In questo video vedremo se funziona meglio Linux di oggi o Linux di dieci anni fa. Il computer sul quale andrò a fare i test è questo Chromebook Acer e la cosa interessante di questo computer è che è stato uno dei primi computer ad essere venduti effettivamente senza Windows. Quindi vedremo anche se ci sono stati dei miglioramenti a livello di driver. L'altra cosa interessante di questo computer è che per l'epoca aveva un trackpad molto buono cosa che all'epoca era difficile trovare sui computer normali e il fatto di essere un Chromebook si trattava comunque di un computer con Linux. Io in realtà non l'ho mai utilizzato più di tanto con Chrome OS perché diciamo era un po' limitante però è possibile cambiare il BIOS quindi flashare un BIOS alternativo e quindi farlo diventare un computer quasi normale. Ed è stato anche uno dei miei primi computer che avevano il disco SSD quindi alcune cose risultavano molto veloci e secondo me per alcuni utilizzi è ancora totalmente utilizzabile. Probabilmente la limitazione più grossa di questo computer era appunto il fatto che ha solo 2 giga di RAM e anche il disco SSD originale era tipo 32 giga forse e poi l'ho cambiato successivamente e ne ho messo uno da 64. Quindi vediamo in questo video quale distribuzione ho installato e anche il perché. Io sono Luigi in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare puoi seguirmi su Telegram a questi indirizzi e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok allora come vi dicevo questo computer ce l'ho da 10 anni e tra l'altro avevo caricato proprio 10 anni fa quindi siamo nel 2024 questo video è del 2014 come funzionava all'epoca Ubuntu 13.10 ora appunto 10 anni dopo c'è Ubuntu 23.10 e questa sarebbe stata la distribuzione che avrei voluto testare tuttavia per motivi che vi dirò alla fine non ho potuto testare questa versione di Ubuntu nel senso funzionava però ci sono stati dei problemi con l'installer ma non è una cosa specifica di Ubuntu quindi per dirvi il test che farò quello che a me interessa fare è ricreare dei componenti simili visto che nel frattempo l'ecosistema di Linux si è evoluto se volete veramente utilizzare un computer con 2 giga di RAM vi consiglio di vedere questo video qui quindi il miglior Linux minimale leggero però come vi dicevo lo scopo di questo video è ricreare diciamo un sistema operativo simile quindi all'epoca avevo messo Ubuntu che era appunto una versione di Linux desktop con tutti i servizi eccetera se volete invece un computer che abbia veramente tutti i servizi che non sia minimale quindi un'alternativa a Windows vi consiglio invece di vedere questo video quindi Linux che effettivamente hanno tutti i servizi e che quindi non sono poi così tanto minimali ok quindi vediamo appunto i vari passaggi e vi farò vedere le stesse cose in due versioni diverse questo qui è Linux Ubuntu 13.10 di 10 anni fa e qui invece abbiamo l'ultima versione e alla fine ho deciso di installare Debian 13 testing e più avanti vi dirò anche il perché però quello che mi interessa testare appunto è l'ecosistema quindi all'epoca c'era Unity adesso Ubuntu ha deciso di passare a GNOME quindi di fatto sto comparando delle cose diciamo equivalenti anche se comunque nel frattempo la quantità di RAM a disposizione nei computer è molto più elevata quindi in realtà aspettatevi già che ci sarà un consumo di RAM molto più elevata ma se la vostra priorità è consumare poca RAM date uno sguardo a questo video però appunto lo scopo di questo video è cercare di comparare un computer una versione di Linux completa ok vediamo cosa succede questa è Unity che tra l'altro quando facevate le ricerche vi uscivano anche i suggerimenti degli store allora qua la prima cosa interessante è il consumo di RAM qui stiamo parlando appunto di Dixorg adesso nell'altro test andremo a utilizzare quello che c'è adesso quindi Wayland con GNOME di fatto c'è un consumo di RAM di base che è molto più elevato quindi nonostante si tratta di Debian l'utilizzo base di Ubuntu attuale o di Debian che diciamo per queste cose sono relativamente simili qui si parla di 1,4 GB utilizzate che appunto se avete 8 GB o 4 GB è indifferente ma su 2 GB di RAM partire già con 1,4 GB veramente è una limitazione molto forte quindi per questo vi dicevo non ha molto senso utilizzare poi questa versione di Linux a meno che non andate a per esempio installare Chimera Linux che effettivamente vi fa partire GNOME con un consumo di RAM di 860-900 MB date uno sguardo al video su Chimera Linux che se vi interessa quella cosa però appunto come partenza è abbastanza forte la differenza quindi qua siamo facciamo a 500 qua siamo quasi tre volte tanto quindi diciamo l'impatto iniziale se tenete tutti i servizi attivi è molto forte qui come consumo CPU al primo posto c'è Kazam che è quello che sta registrando lo schermo tra l'altro questi video sono stati fatti proprio con il registratore di schermo anche su questo computer quindi non è un computer esterno che sta registrando e quindi le performance reali in realtà sono anche un pochino più veloci ok ok quindi qua avevamo il kernel Linux 3.11 e vediamo invece adesso cosa abbiamo su Debian 13 ok qua invece ne parlerò anche più avanti quindi purtroppo il programma che sto usando per registrare lo schermo non è un programma GTK come quello dall'altra parte ma è Vocoscreen che comunque è un programma QT e quindi questa cosa ha influenzato anche un po' il consumo di RAM probabilmente se avessi usato un equivalente in GTK il consumo di RAM sarebbe stato un pochino più basso però purtroppo non ho trovato dei sistemi per registrare in Wayland in modo fluido e anche di questa cosa parleremo dopo comunque al primo posto qua abbiamo Gnome Shell come consumo di risorse e però come consumo di CPU abbiamo ovviamente il programma che registra lo schermo e poi quello che indicizza i file quindi tutte queste novità che vengono aggiunte che appesantiscono da una parte ma dall'altra danno dei servizi che nelle versioni minimali non ci sono ok e quindi qua invece abbiamo il kernel Linux 6.5 con appunto Debian Testing quindi diciamo la versione più aggiornata dei componenti è installabile poi vedremo anche perché ok ok qua invece faccio dei test con Chrome Chromium per vedere appunto se tutti i componenti della scheda video fossero appunto supportati e mi pare che avevo attivato le cose sperimentali perché altrimenti non avrei avuto l'accelerazione video questo è molto importante dovete controllare questa cosa per vedere se appunto i driver che avete sono veramente ottimali e in questo caso mi aveva colpito il fatto che già all'epoca Chrome era supportato molto bene da questo computer infatti aveva tutte le cose accelerate hardware quindi le cose più importanti sono canvas e anche l'accelerazione video quindi quando vedete i video su YouTube già su questo computer non c'erano particolari consumi di risorse proprio perché veniva usata la scheda video al posto della CPU ho fatto la stessa cosa anche sulla versione aggiornata dei componenti solo che appunto come vi dicevo qui abbiamo gli effetti grafici che all'epoca non c'erano ok qui ho lasciato tutto default non ho cambiato nulla invece su GPU come vedete ci sono alcune cose che sono disabilitate però se andate a controllare sono delle voci che all'epoca non esistevano neanche per esempio Vulcan è disabilitato però appunto non esisteva quindi diciamo che quello che era supportato dieci anni fa continua ad essere supportato anche nelle versioni di oggi del browser andiamo avanti ok quindi adesso andiamo a fare un test con diciamo un esempio in WebGL e anche qua ho notato una piccola differenza dieci anni fa questo test partiva con 50 pesci adesso parte con un numero diverso quindi attenzione anche qua ai numeri aspettiamo che si stabilizzi ok vabbè il 50 lo saltiamo perché adesso non c'è neanche più nel test quindi il test effettivo è a 100 pesci quindi mi dava 35 fps 35 fps e con la versione di Chromium attuale quindi la 120 vediamo cosa succede a 100 pesci qui vedete che a volte va a scatti tuttavia è una roba che si vede solo nella registrazione nell'utilizzo normale non si nota quindi diciamo che con finestra non massimizzata in passato avevamo 35 fps con 100 pesci adesso abbiamo 42 fps con 100 pesci quindi c'è stato un leggero miglioramento in realtà sono valori che sono anche influenzati dalla dimensione della finestra però appunto un leggero miglioramento direi anche se ogni tanto qua si impunta nella versione nuova ma è solo nella registrazione ok 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 questo è il file manager anche qua una curiosità all'epoca avevo installato Ubuntu con la cartella home cifrata questa cosa non viene più usata questa tecnologia quindi in realtà non si può fare una vera comparazione comunque questo è il file manager si chiama sempre Nautilus che si chiama Files e appunto diciamo è migliorato però appunto come velocità direi che è analogo ok qua appunto alcune cose importanti da dire rispetto alla versione passata all'epoca appunto la webcam funzionava e continua a funzionare la GPU funzionava e continua a funzionare il multitouch funzionava però appunto su Xorg le gesture multitouch sono un po' limitate invece nella versione attuale diciamo ci sono molti più effetti rispetto Linux di dieci anni fa e ci sono anche le gesture continue quindi come faccio vedere in alcuni test le gesture continue sono diciamo migliori nel senso vi seguono proprio quando spostate le dita e questa cosa appunto non c'era dieci anni fa una cosa che non era supportata per lo meno non di default il microfono interno di questo computer nonostante funzioni su Chrome OS che è Linux su Linux normale non funzionava e continua a non funzionare anche sulla versione di Linux contemporanea mi pare che collegando delle cuffiette però quel microfono lì funziona funziona e quindi che dire questa cosa da una parte mi spiace dall'altra mi stupisce visto che comunque Chrome OS supportava il il microfono invece Linux non supporta il microfono neanche dieci anni dopo altre cose interessanti non andava lo standby invece adesso lo standby funziona tranquillamente come un computer normale non funzionavano le gesture in Chrome queste cose appunto erano più che altre collegate al fatto che diciamo all'epoca c'era Xorg adesso invece con Wayland le gesture funzionano oppure dovete abilitarle ma diciamo sono supportate altra cosa curiosa i tasti speciali visto che comunque non è un computer standard non erano supportati su Linux e tuttora non sono supportati di default su Linux come vedete qua è quasi GNOM 45 però appunto utilizza Wayland e questa versione del kernel si chiama Google Peppy il modello appunto come comparazione se avessimo usato non so LXDE o Cinnamon altri desktop environment più leggeri probabilmente avrei avuto un consumo di RAM minore però di fatto non avrei avuto certe funzionalità che ci sono appunto in Linux moderno queste versioni di Linux sicuramente diciamo rendono i computer vecchi più utilizzabili però dall'altra parte di fatto sono comunque componenti vecchi nonostante vengano aggiornati alle ultime versioni ok qua l'ultimo test che avevo fatto anche qua non è la stessa cosa perché nel frattempo il sito è cambiato comunque questo era come veniva visualizzato il sito The Verge quindi era abbastanza fluido ok e qua invece come funziona con la versione attuale che ovviamente è un sito non è il sito di una volta queste sono appunto le gesture continue che vi dicevo diciamo lo scorrimento è fluido anche se per qualche ragione non è abilitato il kinetic scrolling diciamo sono più lente da caricare le immagini però lì potrebbe anche essere la mia connessione quindi in realtà questo è un altro sito l'Ansa quindi è veloce da scorrere e carica le immagini quando appunto ci posizioniamo a una certa altezza quindi direi che va bene nel senso che se contate che c'è anche la registrazione attiva direi che non mi posso lamentare come vedete gli effetti sono fluidi nonostante la registrazione ok quindi questo era il test che volevo farvi vedere quindi se dovessi trarre una conclusione sono praticamente equivalenti guadagnate il fatto che avete gli effetti in più se decidete appunto di mettere un linux completo e non minimale adesso invece vi parlo del motivo per il quale non ho messo poi ubuntu 23.10 e diciamo io veramente avrei voluto mettere ubuntu 23.10 tuttavia ci sono state dei problemi che onestamente mi hanno fatto passare la voglia tuttavia che dire se avete più di 2 giga di ram probabilmente questo discorso non ha senso per voi questo appunto è ubuntu 23.10 quindi partiva benissimo potete tranquillamente provarlo su questo computer con la live il problema poi ce l'avete quando provate ad installare nonostante sul sito di ubuntu venga specificato che requisito minimo è 2 giga di ram ok sono 2 giga di ram riuscite a far partire la live peccato che quando poi provate a fare l'installazione l'installazione ovviamente richiede nuova ram per l'installer e questa cosa appunto blocca il computer e non riuscite a andare da nessuna parte tuttavia l'installer dubuntu è interessante quindi volendo potete anche abilitare l'installazione con zfs che penso sia l'unica distribuzione linux che vi permette di fare questa cosa questo è il punto esatto dove mi si è bloccata l'installazione questo è l'installer di ubuntu ho provato addirittura a mettere una chiavetta e farla diventare swap in alcuni casi funziona ma in questo caso non ha funzionato e il problema secondo me è questo che ripeto non è specifico di ubuntu anche con mangiaro ho avuto lo stesso frizz nell'installer proprio perché non c'è ram a sufficienza penso che il problema sia questo nel senso che parte c'ha 1 giga e 4 e poi quando parte anche l'installer viene saturata la ram non mi ha fatto mettere la swap aggiuntiva e quindi niente quindi potete provarlo è fluido ma non riuscite a installarlo ok qui appunto ho fatto una chiavetta l'ho fatta diventare swap peccato che poi non c'era modo di far partire funzionare il nuovo installer di ubuntu che sarebbe quello basato su flutter e ho provato a cercare nel motore di ricerca ubuntu 2310 installer e la prima cosa è failed quindi probabilmente il nuovo installer d'ubuntu non è ancora completamente funzionante e soprattutto in questi casi limiti con poca ramma tuttavia poi ho fatto anche il test appunto con mangiaro e ho avuto lo stesso problema quindi immagino che tutte le distribuzioni che hanno sia live che installer alla fine sarebbero arrivate alla stessa conclusione di frizz ho provato anche farlo andare in modalità safe graphics ma niente da fare come vedete parte ma non succede nulla quindi poi ho provato con mangiaro e anche qua c'è la iso che tra l'altro occupa anche un pochino di meno 3.1 giga e potete scegliere gnome minimal e gnome full però appunto non non cambia più di tanto quello che mi è piaciuto dell'installer di mangiaro che non avevo notato e che potete scegliere di non mettere la swap fare la partizione di swap o anche abilitare swap to file questa cosa è molto utile però è utile dopo una volta installato peccato che l'installazione anche qua si bloccava quindi qual è la soluzione? la soluzione come sempre è Debian Debian vi permette di scaricare anche la iso con Debian Testing dovete scaricare la iso però che non è live quindi con questa potete solo installare Debian l'installer non è dei più facili e tra l'altro vi fa molte domande che richiedono poi la connessione ad internet quindi ci sono anche molte interruzioni di fatto questo installer che non è molto piacevole da vedere fa egregiamente quello che deve fare ovvero installare una versione di Linux e la parte più interessante è questa quindi dallo stesso installer potete scegliere l'ambiente grafico che preferite quindi se la gente sapesse usare l'installer Debian probabilmente più della metà delle distribuzioni Linux di DistroWatch sparirebbe perché a questo livello potete scegliere appunto se installare Gnome o se installare per esempio Cinnamon oppure LXQT quindi degli ambienti desktop che richiedono meno risorse ok quindi qua l'installazione è andata a buon fine e appunto avete il sistema operativo che avete visto in in questa review che dire la cosa che probabilmente mi ha creato più problemi è stata quella del del programma per registrare lo schermo visto che appunto su Xorg ci sono tantissimi programmi su Linux che registrano lo schermo su Wayland sono ancora pochi soprattutto quelli minimali e non volevo installare OBS che dire un computer di dieci anni fa è assolutamente usabilissimo soprattutto se è un disco SSD come questo qui che avete visto va benissimo per navigare per guardare i video su YouTube nessun problema probabilmente non noterete neanche tanta differenza tra un computer di quattro anni fa o di dieci anni fa per queste cose certo se volete usare la RAM per non so tenere tanti siti aperti o per altri casi d'uso probabilmente ha senso installare una versione di Linux più minimale così utilizzate la RAM per le cose che veramente vi interessano se invece volete avere un computer più usabile però dovete tenere meno cose aperte contemporaneamente potete installare Debian anche con Gnome come avete visto funziona bene e potete anche registrare quello che fate questo è tutto come sempre lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti